Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Ci sono code a tratti sull'A1, traffico intenso tra il bivio complanare Firenze Nord A11 e il bivio A1 variante di Varico verso Bologna. Direzione opposta verso Roma, sempre sull'A1 tra Valdichiana e chiusi rallentamenti per un veicolo in avaria. Sulla strada di grande comunicazione personale, sulla carreggiata per tre lavori in entrambe le direzioni, siamo all'interporto toscano-ovest. Ci sono rallentamenti anche in A11, il tratto interessato Prato-Est-Prato-Ovest verso Pisa. Veniamo ai treni, il 18-221 Firenze-Santa Maria Novella-Siena è cancellato da Poggi Bonzi a Siena, viaggiatori con il 18-221 Empoli-Chiusi. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.